Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Bomber Ground Siamo tornati su Bomber Ground dopo l'ultimo video che ho fatto insieme a D'Artema E' piaciuto tantissimo, ho avuto un sacco di visual, un sacco di like Abbiamo superato i 16 like addirittura, mamma mia, vi ringrazio veramente Quindi fate arrivare questo video come minimo a 10 mi piace Oggi siamo tornati ovviamente su Bomber Ground Sono anche salito un bel po' nel livello 19 Cosa facciamo oggi? Oggi volevo arrivare, cioè volevo sbloccare qualcosa di buono nelle cesto Infatti come potete vedere ho 131 monete E con queste monete ogni volta che arrivo a 150 posso aprire una cesto, questa qua la basic cesto Che costa 10 gem o 150 monete, io di solito utilizzo sempre le monete Però ovviamente le monete non sono proprio tanto facile da fare Quindi oggi ci proveremo, giocheremo una battaglia Ovviamente più punti abbiamo meglio Ok, la cosa scomoda è che sto coso si muove da abbastanza fastidio Anche nello schermo da un po' fastidio Quindi cercherò di non farlo muovere più di tanto Allora Ci abbiamo già la speed Uno, due, scappiamo Bene Le stelline Ovviamente ragazzi più tempo rimaniamo meglio è perché più punti ci danno Vai, esplodi Vorrei fare anche qualche kill, non mi dispiacerebbe Qualche kill Aspettate, guarda No, 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 muori Poi abbiamo un sacco di bombe No Uh, stelline Ok, quindi più tempo rimaniamo ovviamente più monete ci danno E vediamo cosa potremmo Sbloccare speed Ora sta cadendo pure il bordo Scappiamo, scappiamo, scappiamo Siamo in 10 Siamo in 10 persone No, il bordo è piccolissimo Eh, voglio, devo cercare di uccidere questo Quindi ora lo intrappolo No, cavolo, è bravo Facciamo una cosa bene No, mi sono intrappolato da solo, sono scemo Esplodi, ok Adesso io lo vorrei stordire e lo riempio di bombe Non ci sono riuscito, sono morto io Va bene, fa niente Comunque vediamo quante abbiamo ricevuto 5 monete E siamo a 136 Ne abbiamo bisogno di più Ah, poi ragazzi A 500 iscritti Voglio fare uno speciale Dove rispondo alle vostre domande Quindi Qui sotto Nei commenti Tutti mi dovete fare Una domanda Cioè Potete farmi fino 5 domande A testa Perché io quando arriverò a 500 iscritti Farò questo speciale Dove risponderò alle vostre domande Quindi ognuno di voi mi potrà fare 5 domande a testa E poi io me le salverò E poi farò questo speciale Dove risponderò a queste domande Quindi tutti qui sotto nei commenti Se volete Scrivete Queste domande Potete Sono domande Di ogni genere Possono essere Qualsiasi domanda volete Potete Farmi Potete mandarmi Potete scrivermi A questo Quello riempio di No Che fortuna No Dai Come mi ero salvato Però prima Mamma mia Quanto ero stato bravo 2-3 monete Cavolo Certo che ci vogliono Tante Ma tante Ma tante partite Comunque queste qua Sono le mie statistiche Ho giocato 225 partite Ne ho vinte 3 Ho fatto 109 decisioni Sono morto 218 volte Ehm Poi ho fa Ho droppato 1578 bombe Sono tantissime Ho fatto Il massimo mio E' 4 kill In una partita Mamma mia Quante Poi c'ho tipo Queste emoji C'ho Il gatto Questo qua Che ha le partigini C'ho anche La stessa emoji Però con l'orso E niente Questa 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 E questa Ok Vediamo qua Su friend E questo lo tolgo L'avevo accettata Però Poi Per questo Non ce ne sono Perfetto Dai 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 Vediamo ora Se riusciamo A vincere Vorrei provare A camperare Sì perché Camperare È un modo Migliore Anche un modo Molto Buono Per vincere A camperare Quindi prendiamo Tutto questo Tutto questo Ovviamente Le stelline Fanno sempre Comodo Ma tanto Ho la mega bomba Totti Prenditi la mega bomba Niente L'hai buttata Ma muori Mega bomba Speed Ora Ora mi voglio Stare un po' A camperare Vediamo Mi sto qua Ora mi sto qua A camperare Finché Finché Non si stringe Il bordo Quindi ci vediamo Quando si Stringerà Il bordo Ok 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 Fatto Allora Il bordo Si sta stringendo Io devo Sempre camperare Siamo in nove Veramente Pochi Ma io Se campero Ho la meglio Poi c'ho pure Una bomba Quella là La mega bomba Siamo in otto Molto bene Aspettate Se lo prendo Cavolo Ok Cavolo Siamo in sette Kill Hanno fatto una kill Dammi le stelline Tutte mie Anche se non me ne faccio Tanto Delle stelline Cavolo No Siamo troppi Siamo troppi Siamo troppi Ok Il bordo Quante No dai Ora sto tutto il tempo qua Ragazzi Possiamo vincere Siamo in tre No Dai Vabbè Dai Però Quanto abbiamo guadagnato Otto coins Bene 981 punti Bene 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 Dai L'ultima partita Mi sa E poi Apriamo La cesta Finalmente Una mappa Diversa E adesso Non so Camperiamo Non saprei Ragazzi C'è un sacco di cose Guardate Scusate per la chiamata Di prima Però Buttiamo sto coso Vai Perfetto Questa è la mega bomba Ok Perfetto Ok Sono anche Livell up Quindi ora posso buttare Quattro bombe Invece di tre Ok Speed livello 2 Vai Speed livello 3 Speed livello 4 No Avevo raga La speed di livello 4 Non ci credo Ero velocissimo Ok Abbiamo abbastanza Coins Per andare Su shop Questa 25 Proprio bellissimo Ok Dai Va bene Va bene Ci possiamo accontentare Ci possiamo accontentare Allora Facciamo un'altra partitina Credo già comunque Di aver trovato il titolo Per questo Video Dai Quanto ci vuole Nel momento ragazzi Vi siete iscritti Avete lasciato like No Fatelo subito Perché a 500 iscritti Farò questo speciale Potrei farlo insieme a qualcuno Ma non ne sono proprio convinto Se volete ragazzi Che lo faccio Insieme a un mio amico Nella descrizione del canale Ci sono tutti i miei amici Ditemi con chi Vorreste farlo Con chi vorreste fare questo Questo speciale Che risponde Tipo un'intervista con lui Scrivete Nei commenti Cosa Con chi Lo vorreste vedere E Potrei ripensarci O intanto Ditemelo Sì Ho fatto una kill Con la kill Ragazzi Guarda un sacco Dai Ma ero Intrappolato Però Ero Intrappolato Ma non vale Ero Intrappolato Vabbè Fa niente Dai Abbiamo un sacco di cose Già ho detto Quello che dovevo dire Comunque Io sono tipo Del battle E passo Sono 150 coins Che non me li hanno dati mai Ok Vediamo Tipo Ok Dai Ci siamo Vediamo se almeno Una partita La riusciamo a vincere Vai Vediamo Ok Sempre questa mappa Guardate ora Quante me ne faccio Di scatole qua Di Venga Ti prego No 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 Sì però Ma quella Mi viene qua Quaranta bombe Minanza Che Cavolo Non dico niente Se no poi Devo Vippare Occupami Moro Un sacco di Cosa Basta Non dico niente Calmo Difficile Rimanere calmi In queste situazioni Però Meglio rimanere calmi Adesso Speriamo che Non mi ricapiti Una cosa Del genere Ok Mi sa che questa È l'ultima partita Per oggi E poi ci possiamo Anche affermare Allora vai Io vorrei camperare Quindi Facciamo l'ultima partita Senza tagli Ok Non farò tagli Che mossa Pro che ho fatto Mamma mia Ora lo riempio Di bombe qua Voglio vedere se non Esploso 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 Vai Vai No Schifo Ho visto qualcuno Che Gli ha dato una macciata Ah Ho detto senza tagli Però ho dovuto rifiutare La videochiamata Quella che mi stavo facendo Allora Dai Mi sto riuscendo Vai prendilo Scappa 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 Devo camperare Perché siamo in 12 Siamo in 12 Camperiamo Ma chi è Basta Ok dai Mi metto a camperare Così ho Molte più possibilità Adesso sbamo Ora faccio una kill Per forza No Come ho fatto a non farla Siamo però 7 No Ok dai Vabbè Vabbè raga Fa niente Comunque spero che questo video Vi è piaciuto Se si lasciatome il mi piace Ditemi le domande Se farle con qualcuno Se si Scrivetelo nei commenti Diamo oggi è tutto Se volete un altro video Su Bomberground Raggiungiamo i 10 like E niente Diamo oggi è tutto E noi ci vediamo Come sempre domani Con un mio prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti